Perché ho scelto in questo video, mi vedi che sto cadendo da trattore? Dopo mi vede tutta la gente su YouTube, mi dice, guarda che ho scelto in un video da fatto, che ho scelto da trattore, che sto assieme alle 4 metri. Non si può fare questa cosa, Maria. Ricordi quando siamo andati a rubare il Sambucco, no? Non era Sambucco. Come si chiama quella cosa là che si fa? Sono fissi di Natale. Vischio! Ah, vischio, 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 vischio. Oh, buon dia. Che figura di merda, Maria. Penso che sei alla fine, no? Nasta. Buon.